Eccoci qua live, ci teniamo in maniera particolare all'incontro di oggi, primo perché è il primo dopo tanto tempo, il primo Learning Friday che facciamo dopo tanto tempo, rintroduco un pochino il format, sia per chi è nuovo in K2Business, sia per chi è un ospite esterno gradito, perché come abbiamo detto siamo molto aperti a tutto quello che è il mondo della community. Noi il venerdì, una volta al mese all'incirca, ci fermiamo un paio d'ore e tiriamo dentro un argomento che non è per forza legato a quello che facciamo nel mondo del lavoro tutti i giorni. A volte è un qualcosa che ci aiuta nell'upskilling, a volte sono argomenti anche molto al perimetro, anche sulle soft skill, però per noi l'obiettivo è quello di fornire degli stimoli, anche dei nuovi punti di vista nel costruire proprio il percorso di professionalizzazione di una persona, di un developer. In questo caso in realtà parliamo di qualcosa molto legato al nostro lavoro, Michele lo conosco per la sua fama da tanto tempo, mi piace tantissimo, quindi ho insistito tanto io per organizzare questo bello evento perché la value proposition di quello che propone sul mercato è molto in linea con quello che Cato Business cerca di fare per i propri clienti, quindi cercare di dare strumenti che sono molto effective per il business e quindi non perderci fronzoli tecnologici che in alcuni casi sono necessari ma in altri non per forza, cercare di accorciare il time to market delle soluzioni che facciamo ma soprattutto dare ai nostri clienti il controllo di quello che gli andiamo a deliberare, questo per noi è fondamentale. Quindi io farei così, visto che comunque due o tre minuti l'abbiamo spesi, penso un po' di gente è arrivata, darei la parola a Daniele per presentare un po' tutto quello che è Novolaris e poi a Michele per mettere un po' le mani sul codice. Sì, grazie Marco dell'introduzione. Adesso condivido una presentazione in modo che possiate capire meglio quello che è Novolaris. Un attimo un problema nella condivisione della presentazione. Ne approfitto intanto per comunicare a tutti quanti che abbiamo già preparato un bel palinsesto per tutto l'anno e i prossimi temi che parleremo saranno legati molto al mondo dell'intelligenza artificiale, da un punto di vista proprio sia più spinto della data science, computer vision, per raccontare un po' il dietro le quinte di qualche progetto che abbiamo fatto e che stiamo facendo per fare la ricostruzione dei percorsi delle persone all'interno degli spazi e sia per raccontare altri temi legati più ad un altro progetto che stiamo incubando per il fotoritocco. Ok, vedo che ci siamo. Riuscite a vedere la presentazione? Adesso vediamo lo schermo, ci vediamo da soli. Ok, questo è un problema. Devi scegliere la presentazione. Eh sì, non mi dà l'opzione. Ok, adesso c'è. Ok, perfetto. Perfetto. Non so quale fosse il problema, però possiamo iniziare con un minuto di ritardo. Bene. Allora, buon pomeriggio a tutti i presenti. Allora, innanzitutto ringraziamo anche tu per questo spazio che ci sta concedendo. Mi chiamo Daniele, lavoro nell'area marketing di Nuvolaris e oggi sono qui insieme a Michele, founder e CEO di Nuvolaris, per raccontarvi appunto cos'è Nuvolaris e perché può essere la soluzione per il futuro del serverless. Nuvolaris è una piattaforma per velocizzare lo sviluppo di applicazioni cloud native e per rendere portabili in tutti i cloud, siano essi pubblici, privati o ibridi. Nel tempo a nostra disposizione seguiremo questa semplice scaletta, iniziando dalla presentazione dello scenario attuale del mondo cloud e dei due principali approcci che lo dominano. Successivamente vedremo come Nuvolaris e i suoi benefici possano rappresentare una soluzione ai problemi che attualmente attanagliano questo mondo. Michele ci spiegherà poi come funziona effettivamente Nuvolaris, dandoci anche una dimostrazione pratica con una demo. Infine ci sarà uno spazio in cui cercheremo di rispondere a ogni vostra domanda e curiosità. Per comprendere pienamente le funzionalità di Nuvolaris, bisogna considerare come il mondo stia assistendo a una vera e propria corsa al cloud. Il passaggio verso il cloud per i developer è ormai inevitabile, poiché i servizi e le tecnologie del cloud stanno diventando sempre più diffusi e indispensabili per lo sviluppo e la distribuzione delle applicazioni. I servizi cloud consentono di ridurre i costi di infrastruttura, di migliorare l'agilità e la scalabilità delle applicazioni e di aumentare anche la produttività dei team di sviluppo. In questo contesto l'espressione cloud native viene utilizzata per indicare tutte quelle applicazioni progettate e sviluppate specificatamente per essere eseguite su una piattaforma cloud. Si stima che nel 2022 il circa il 92% delle aziende abbia già utilizzato servizi cloud, con una crescita rispetto all'anno precedente addirittura del 20%. Questo dimostra che il cloud sta diventando sempre più indispensabile per le aziende, sia per i team di sviluppo che per le altre funzioni aziendali. In sintesi, la crescita del mercato del cloud pubblico e l'adozione sempre maggiore dei servizi cloud da parte delle aziende dimostrano che questo passaggio è necessario, anche se il cloud computing può essere complesso a causa della vasta gamma di servizi e soluzioni disponibili, che possono però essere configurati e combinati in modi diversi, a seconda dell'esigenza aziendale. Inoltre, il cloud spesso richiede una comprensione approfondita di concetti come la sicurezza, l'archiviazione dei dati, la gestione delle risorse e l'automazione, che possono essere difficili da padroneggiare per i nuovi utenti o per chi ha poca esperienza. Infine, la migrazione dei sistemi legacy verso il cloud può comportare sfide tecniche e organizzative, come la riconfigurazione delle applicazioni e la formazione dei nuovi dipendenti per utilizzare tali tecnologie, sfide che richiedono ovviamente tempo e soprattutto denaro per essere vinte. Oggi la Corsal Cloud vede prevalere due principali approcci. Il primo consiste nell'utilizzare Kubernetes, mentre il secondo nell'orientarsi verso il serverless, facendo leva sui servizi che sono offerti dai vari cloud provider. Il primo approccio consiste nello scrivere l'applicazione a container per poi farla eseguire in Kubernetes. Si tratta di una soluzione portabile e uniforme tra i vari cloud, che però è molto complicata. L'alternativa, invece, è non costruire la propria architettura in Kubernetes, ma utilizzarne una già esistente, il cosiddetto serverless. Il problema è che il serverless è una produzione che, seppur semplice, è proprietaria. Come è facile comprendere, quindi, entrambi gli approcci hanno sì dei vantaggi, ma anche degli svantaggi considerevoli. Andiamo ora ad approfondire questi ultimi, per capire come il Nubolaris possa essere la soluzione che, ponendosi nel mezzo, risponde ad ognuna di esigenza. Come detto, il principale pro-difetto di Kubernetes è la sua complessità. La complessità deriva dal fatto che Kubernetes fornisce molte funzionalità avanzate e personalizzabili che richiedono una certa curva di apprendimento per poter essere utilizzata efficacemente. Questa curva di apprendimento è però molto ripida, poiché si parte da cose apparentemente semplici ed elementari, per arrivare però rapidamente alla richiesta di competenze specifiche e sempre più estese. Inoltre, la configurazione di un cluster Kubernetes richiede un'attenta pianificazione e una buona conoscenza dell'architettura sottostante. Il limite della complessità, pertanto, ha risvolto pratico nel fatto che non tutti sono in grado di utilizzare Kubernetes correttamente e nella sua totalità, e che in ogni caso viene sempre richiesto un grande sforzo ai developer. Dal punto di vista di un'azienda, ciò comporta naturalmente una maggiore difficoltà nella ricerca e nella selezione del personale, che come detto deve possedere tutte le adeguate skill per dominare questo approccio. Il secondo approccio è invece quello serverless. Si tratta di un mercato attualmente in forte crescita, con una dimensione quantificata in 7.2 miliardi di dollari nel 2022, ma con una crescita potenziale stimata che potrebbe portarlo a toccare ben 26 miliardi di dollari entro il 2026. Nonostante questo exploit, il serverless ha il grande problema che abbiamo già citato, ossia quello di essere proprietario, una caratteristica che può determinare la temuta trappola del vendor lock-in. Il vendor lock-in è una condizione che si verifica quando un soggetto, che possiamo pensare tranquillamente essere un'azienda, è legato a un singolo provider di servizi cloud, per esempio AWS o Microsoft, e non può passare facilmente ad un altro fornitore, senza incorrere in costi elevati, nella perdita di funzionalità importanti, in tempi di migrazione lunghi e talvolta addirittura nel rischio di interruzione del servizio. Nel caso del serverless, il problema del vendor lock-in è particolarmente critico, poiché le funzioni serverless sono spesso altamente specializzate per le piattaforme su cui vengono eseguite. Ciò significa che, una volta che un'azienda ha sviluppato e rilasciato una funzione serverless su una piattaforma specifica, può diventare difficile migrarla su un'altra piattaforma senza doverla riprogettare e riscrivere. In linea teorica è anche possibile che il provider modifichi le proprie politiche di prezzo, costringendo l'azienda a dover sostenere oneri inattesi. Tale evidenza, seppur possibile, non è tra le più probabili. Molto più concreto, invece, è il rischio che si presenti l'opportunità di passare a un altro provider che offre condizioni più vantaggiose per la nostra azienda, senza però poterne approfittare, poiché si è legati all'infrastruttura del provider attuale. Ciò può essere particolarmente problematico per le aziende che cercano di ridurre i costi e di aumentare l'efficienza. Perdendo l'occasione di passare a un provider più adatto alle proprie esigenze e alle proprie disponibilità economiche, mentre i propri competitor potrebbero sfruttare questa opportunità ottenendo un vantaggio competitivo significativo, un'azienda potrebbe vedere seriamente compromessa la propria posizione di mercato. Inoltre, il costo del vendor lock-in può anche aumentare nel tempo. Mano a mano che l'azienda utilizza sempre più servizi forniti dal fornitore cloud, la quantità di dati e funzionalità da migrare diventa sempre più grande, rendendo la migrazione più costosa e più rischiosa. Infine, la conseguenza indiretta del vendor lock-in è anche la perdita del potere contrattuale da parte dell'azienda, che nel dialogo con il fornitore o anche con eventuali sostituti si troverà in una posizione subordinata. Ma quindi, cosa bisogna fare? In uno scenario normale bisognerebbe scegliere tra vendor lock-in e alti costi dei cloud provider proprietari o tra le difficoltà dell'approccio fai-da-te con Kubernetes. In molti casi, però, Kubernetes è l'unica opzione. Per alcune entità, come le banche, le compagnie assicurative o alcune pubbliche amministrazioni, la sicurezza e la stabilità delle applicazioni sono fondamentali. Kubernetes fornisce un'infrastruttura altrimenti personalizzabile e scalabile, che consente di controllare ogni aspetto dell'applicazione, inclusa la sicurezza e la disponibilità dei dati. Inoltre, alcune di queste entità possono avere requisiti di conformità regolamentare che richiedono un controllo rigoroso sulla gestione dei dati, delle credenziali e dei servizi. Kubernetes offre la possibilità necessaria per soddisfare queste esigenze, mentre le soluzioni serverless possono essere limitate nella loro capacità di personalizzazione e di controllo. Infine, le entità che hanno bisogno di gestire grandi quantità di dati possono trarre vantaggio dalla scalabilità e dalla ridondanza aperte da Kubernetes. Anche se la configurazione iniziale può richiedere maggiori risorse e competenze, la scalabilità e l'automazione fornite da questa soluzione possono essere molto vantaggiosi in un ambiente di produzione ad alta incentivizzazione di dati. Tutto ciò, seppur valido, ci riporta però al punto di partenza. Quello che è Kubernetes è molto complicato e non è gestibile da chiunque. Ed è qui che Nuvolaris giunge in soccorso, rappresentando la soluzione, ha eccitato i problemi. Ciò che Nuvolaris vuole fare è implementare un serverless su Kubernetes. Si tratta di una soluzione cloud native e multi-cloud, quindi portabile come Kubernetes, ma anche facile da usare, come il serverless. Possiamo così identificare due principali punti di forza di Nuvolaris che rende unica la nostra soluzione, la semplicità e la portabilità. Con Nuvolaris puoi sviluppare applicazioni portabili cloud native che funzionino su qualunque Kubernetes, anche in cloud pubblici, con estrema semplicità. La domanda che spesso a questo punto ci viene fatta è, ma quindi Kubernetes è un competitor, per esempio, di AWS Lambda o di Google Cloud? La risposta non è netta. Sì e no. Sì, perché di fatti è una piattaforma function as a service e qualunque cosa che possiamo fare con Lambda possiamo farla anche con Nuvolaris, in maniera più semplice, a dire la verità. Tuttavia, Nuvolaris è molto più di tutto questo. Nuvolaris è realizzata su OpenWisk, un serverless engine sviluppato da IBM, che è stato poi reso open source con la Pass Foundation. Questo motore è utilizzato da alcuni public cloud provider, come DigitalOcean, ma è solo un motore serverless, non è portabile e non sopporta applicazioni stateful. Al contrario, Nuvolaris può essere eseguita in ogni cloud e in ogni Kubernetes e aggiunge una serie di funzionalità che non sono disponibili in OpenWisk, il che la rende una soluzione serverless completa. Nuvolaris supporta le applicazioni stateful out of the box con un database integrato MongoDB. Inoltre, è possibile con Nuvolaris creare applicazioni serverless complete con sia back-end che front-end e fare il deployment in uno step con un semplice comando. È anche incredibilmente semplice da installare. Anche in questo caso basta un solo comando. Infine, con Nuvolaris, i developer diranno addio alle complessità derivanti da Kubernetes e difficilmente vorranno tornare indietro. Vediamo come quest'ultimo aspetto si raduce nel pratico in un risparmio di tempo e denaro. Con questa slide vogliamo fornire un'immagine tanto semplice quanto esplicativa della differenza tra chi utilizza unicamente Kubernetes e chi invece si affida a Nuvolaris. Quando viene usato Kubernetes ci sono molti step da fare manualmente. Il processo è complicato e quindi occorre più tempo per produrre l'applicazione serverless. Il risultato può essere ottenuto, ma la strada da percorrere sarà sicuramente più difficile. Con Nuvolaris la situazione è completamente diversa, poiché il software è sviluppato in una maniera molto più diretta. Con Nuvolaris si astrae dalle complessità di Kubernetes accorciando i tempi e riducendo i costi di sviluppo e quelli relativi all'hardwell, producendo un'applicazione stabile e scalabile e portabile, rendendo il cliente e anche il developer soddisfatto. Vediamo qui invece un semplice esempio di come Nuvolaris riduca di più di due terzi i costi del tipico sviluppo di app cloud native, considerando in questo caso i salari medi dell'Europa meridionale. Infatti, mentre nel caso di Kubernetes il team di sviluppo sarebbe composto da un cloud architect, due senior developer e due junior developer, con Nuvolaris si riduce anche il numero di persone necessarie, il che si traduce in minori costi del personale, che passano da 405.000 a 140.000 in questo caso, in un minor bisogno di expertise, oltre alla già citata semplicità e al minore tempo impiegato, che nel nostro esempio passa da un anno e mezzo a solamente un anno. Ma come fa Nuvolaris a ridurre il tempo di sviluppo di un'applicazione serverless? A sinistra vediamo come il tipico percorso quando si utilizza Kubernetes richieda una lunga serie di passaggi. La funzione viene codificata, poi viene committe da una source repository, containerizzata, l'immagine viene inviata a registro e Kubernetes viene utilizzata come orchestrator e del load balancer, per avere infine l'applicazione. A destra invece possiamo vedere come il processo sia molto semplificato grazie a Nuvolaris. La funzione viene sviluppata e deployata nel cloud istantaneamente, utilizzando soltanto un semplice comando. L'applicazione funzionerà su qualunque Kubernetes e se domani si decidesse di cambiare cloud provider non ci sarebbe necessità di modificare neanche una linea di conti. Inoltre Nuvolaris supporta la scrittura delle funzioni in numerosi linguaggi di programmazione. Il processo permette ai developer di migliorare radicalmente la loro efficienza e il loro lavoro. Pertanto si può dire che in un certo senso Nuvolaris sia uno strumento per un rapido sviluppo di applicazioni. Possiede infatti un setup di sviluppo locale in cui è possibile accelerare un cluster Kubernetes con un solo comando. Per ricapitolare quanto detto fino ad ora, perché Nuvolaris rappresenta la soluzione giusta nel contesto attuale? Innanzitutto è più conveniente, sia rispetto alla scelta di un cloud provider pubblico, sia rispetto all'utilizzo di Kubernetes. Farà risparmiare tantissimo denaro nel lungo periodo. Poi è così semplice da usare che gli sviluppatori non avranno motivo di lamentarsi e al contrario non vorranno più farne a meno. La sua semplicità è paragonabile a quella delle funzioni di Lambda, se non addirittura di più. Le applicazioni sviluppate con Nuvolaris sono poi, come detto, portabili e potranno quindi essere eseguite in ogni Kubernetes e in ogni cloud. Infine, Nuvolaris non è solo una piattaforma function as a service, come spesso erroneamente ci viene detto, bensì una piattaforma in cui puoi creare intere applicazioni cloud native contenenti sia la parte back-end che front-end. A questo punto lascio la parola a Michele, che ci spiegherà più nel dettaglio alcuni aspetti del funzionamento di Nuvolaris e mostrerà poi una demo. Vi ringrazio per l'attenzione. Ok, avevo tolto il microfono ovviamente. Allora, mi sentite adesso? Sì? Perfetto. Ok. Dunque, io adesso vi faccio un demo, però prima di farlo devo puntualizzare alcuni aspetti diciamo filosofici di cosa andiamo a vedere. Quindi, come abbiamo detto, si parla di microservizi, si parla in realtà Kubernetes è spesso la scusa per usare Kubernetes, però di fatto diciamo che le applicazioni per il cloud, la differenza principale delle applicazioni cloud native e le applicazioni cosiddette classiche, o come si dice monolitiche, sta nel fatto che le applicazioni monolitiche sono appunto monolite in cui c'è un unico programma, un unico server in cui fa un po' di tutto, anche se può essere replicato più volte è comunque un monolite, mentre l'approccio microservizi, spindo dalla nuzione di Kubernetes, che è quella di spezzettare le applicazioni in tanti componenti abbastanza indipendenti con una serie di benefici che proveremo a spiegare. In realtà i benefici sono abbastanza ovvi perché si ottiene tanti componenti che possono essere migrati, evoluti, sviluppati indipendentemente e infatti tipicamente la ragione, diciamo che la motivazione tecnica per adottare Kubernetes è che si sceglie di fare un'applicazione a microservizi. Si sta andando verso un'applicazione a microservizi. Allora, il problema è che fare un'applicazione a microservizi, da un monolita a un'applicazione a microservizi, non è poi così semplice. Soprattutto non basta prendere il monolita e spezzettarlo, perché in linea di massima uno pensa, ok, bisogna spezzettare, però una volta che si spezzetta l'applicazione è necessario anche avere uno stato condiviso che in un ambito cloud va replicato. Quindi in pratica bisogna realizzare un'applicazione distribuita e non è per nulla semplice. prossima slide. Il modo con cui si cerca di approcciare queste cose è quello di spezzare sia la logica applicativa che il frontend in tanti componenti. Quindi da un lato si tende ad adottare lato server di microservizi, ma quasi sempre non basta, per cui si utilizza e sta emergendo sempre di più l'approccio anche al micro frontend. In pratica la nostra applicazione è una serie di tanti componenti che è ognuno di questi più o meno localizzato che parla con dei microservizi. Ora noi con l'approccio serverless andiamo un po' oltre perché, e lo vedremo nell'esempio che vi do, in realtà addirittura noi parliamo, un termine che ha inventato il mio amico Gregorio Piccoli che lavora nel settore di Zucchetti, di picco servizi, perché praticamente stiamo parlando di funzioni che sono talmente piccole che a ogni micro frontend e ce ne possono stare numerose. Quindi in questo modo si crea un'applicazione fatta da tanti piccoli, tanti componenti indipendentemente che parlano con dei componenti di backend ancora più semplici, talmente semplici che più delle volte sono composti da un singolo file in un qualsiasi linguaggio di programmazione. prossimo slide. Quindi, prossimo slide. Daniele, prossimo slide. Ok. Quindi noi... Prima. Prima. Ok. Allora, sì sì, ok, ok, ok. Allora. Quindi in pratica per favorire questo approccio, e questo è quello che diciamo stiamo cercando di fare con Polaris, e questa cosa in realtà dei precedenti, per esempio la Nimbella aveva fatto già, ha realizzato una cosa del genere, abbiamo, noi stiamo estendendo l'approccio, abbiamo definito un concetto di applicazione serverless, che è composto da tutta una serie di componenti web frontend, associate a tutta una serie di componenti di backend, di backend che sono delle funzioni. E tutto questo poi viene deployato come unità. Cioè abbiamo, facciamo un'applicazione, creiamo e abbiamo definito il concetto di applicazione serverless, che è un'applicazione una sola, sta in un unico container, cioè un unico repository, quello che invece nell'approccio Kubernetes sono decine di repository diversi, e codice molto semplice, non si builda nulla, si deploya in un'unica soluzione e produce tanti frontend e assembla dei micro frontend e fornisce tutta una serie di servizi di backend. E tutto questo è integrato nel nostro, nel nostro ambiente di sviluppo. Ora, per trasformare tutto questo da parole a fatti, vi faccio vedere il mio demo, quindi adesso condivido lo schermo. Ecco. Lo vedete? Lo vedete? Allora io vi faccio vedere un demo di una cosa del genere, appunto, come un'applicazione composta da una serie di microservizi di backend, che saranno, saranno pochi, però vi faccio vedere tutto il codice, e un frontend, in questo caso sarà uno solo, ma può essere considerato un componente di un'architettura micro frontend. micro frontend. Quindi adesso vi faccio vedere in pratica quello che vi ho detto, cioè come si sviluppa un'applicazione serverless, e vi faccio vedere, ho scelto di utilizzare in questo demo il linguaggio Java, perché negli ambiti in cui lavoriamo è uno dei più usati, e per, sempre per, diciamo, strizzare l'occhio agli sviluppatori enterprise, stiamo utilizzando database SQL, Postgres, e tutto gira su OpenShift, su AWS. Però dico subito che ci sono altri linguaggi che di solito sono più adatti nel mondo serverless, perché tipicamente si usa molto JavaScript e Python, perché il vantaggio di un sistema così dinamico come quello che vedete è sfruttato meglio con questi linguaggi, ma niente impedisce, se uno vuole, di utilizzare Java o anche C Sharp o altri, o linguaggi, il sistema supporta praticamente qualsiasi linguaggio di programmazione, Java, C Sharp, Python, Python, JavaScript, Go, Rupi e Rust, quindi non c'è, non c'è, è abbastanza dipendente dal linguaggio il modello serverless. Quindi in questo particolare demo vi utilizzo Java, e utilizzo il database Postgres. Anche lì sui database Postgres c'è da dire perché non scalano molto bene, quindi è meglio utilizzare un database per SQL, però si può fare, e infatti ve lo faccio vedere. Adesso andiamo avanti, e cosa faccio? Per farvi capire come funziona, faccio un demo completo di un'applicazione CRUD, che è praticamente CRUD sta, come sapete, con Create, Receive, Update e Delete, che sono i quattro comandi dell'SQL, quindi Select per Insert per Create, Receive per Select, Update per Update e Delete per Delete. Quindi si chiamano CRUD le applicazioni di database, e quindi praticamente faccio vedere una banalissima applicazione di database, semplicissima, però realizzata in modalità micro front-end più micro servizi. Non micro front-end perché front-end in questo caso è uno solo, però vabbè capirete che può essere visto come un componente di un micro front-end. I micro servizi sono tre, anzi a questo punto sono picco servizi, perché ce n'è uno per Select, uno per Insert, uno per Delete e un altro per Create, vedrete che sono in tutto quattro. L'applicazione è schematizzata lì, c'è un front-end, che poi anche questo, anche il front-end sarà un micro servizio che fornisce il front-end, che chiamerà tre micro servizi di back-end, Select, Insert e Delete, i quali vanno a scrivere sul database. Adesso vi faccio vedere tutto il codice, però appunto per rendere comprensibile la cosa, il codice è ridotto proprio all'osso, 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 quindi non c'è controllo di errore, quindi sicuramente abietterete, ma se metto il valore sbagliato non se ne accorde? Sì, sicuramente, perché il demo è assolutamente elementare, ma ha lo scopo di dare un'idea di come funziona. Quindi andiamo nei dettagli e, e se va avanti, eccolo qui, cominciamo a creare la nostra applicazione a micro servizi, anzi picco servizi. E per farvi vedere come funziona il macchigegno, inizio subito creando un micro picco servizio per inizializzare il database, che sarà Create. Quindi iniziamo subito. Adesso vi faccio vedere tutto il codice, quindi perdonatemi per chi non codifica, però questo è un demo del codice, quindi... Siamo tutti abbastanza codificatori. Bene, allora non vi spaventerete perché il codice l'ho reso più piccolo possibile per essere leggibile. Quindi qui parliamo proprio della BC, come si crea un servizio che crea un database, ci si collega al database. Quindi la prima cosa che faccio è ottenere dagli argomenti un urlo al database, caricare il driver e poi creare una connection. Connection, driver manager connection. A questo punto basta eseguire uno statement, quindi il classico create table, che crea una tabella con un nome, un telefono, un'email, eccetera. Quindi potete vedere il codice che crea appunto una tabella di database e il tutto in salsa serverless. Ora vi faccio vedere qual è il vantaggio di Nuvolaris. Nuvolaris crea un servizio, quindi l'equivalente che normalmente sarebbe un container, che deve essere buildato, pushato, deployato, eccetera, eccetera, con un singolo file che viene mandato e immediatamente utilizzato. Quindi quei due pezzi di codice vanno inseriti in un singolo file classe, che avrà una firma, quindi c'è un metodo main, che prende un input e un output che sono standardizzati essere un oggetto JSON. Dopodiché esegue due pezzi di codice che ho fatto vedere. Quindi carica il driver ed esegue una query. Ecco fatto. Ora nel mondo Kubernetes Kubernetes a questo punto c'è una lunga trafila di buildare l'immagine, di pusharla, di caricarla, di deployare, eccetera. Nel mondo serverless tutto invece è molto più semplice. Il comando nuv che qui stiamo andando a utilizzare è l'interfaccia al sistema Nuvolaris. È composto da semplici comandi che deployano le funzioni e le seguono nell'ambiente. Nuvolaris che a sua volta è in esecuzione, in questo esempio, in OpenShift che è stato deployato su AWS. Adesso cosa faccio? Creo prima un package che è un raccruppamento di funzioni e lo uso come contenitore per passargli l'url a dove si troverà il database. Dopodiché, quindi, questo nuv si è update. In realtà update fa anche la create, quindi crea un nuovo package che contiene, che conterrà i nostri microservizi. Il file address slash create java è il file che vi ho fatto vedere prima e non serve nemmeno compilarlo perché il sistema serverless è abbastanza furbo da farlo tutto lui. Quindi io prendo il file, lo mando, lo eseguo e ho creato il microservizio. Tanto è vero che se adesso ho listo i microservizi vedo che ora c'è. Quindi è abbastato un comando, anzi due in questo caso, per creare, uno per il package e uno per il create, per creare un microservizio. E adesso lo posso subito eseguire. Quindi adesso facciamo un test. Prima faccio un controllo se il database è vuoto. Abbiamo visto che questo microservizio crea una tabella del database. Quindi prima controllo che il database è vuoto. Adesso eseguo una invocazione del microservizio. Questa invoke è una chiamata che permette di invocare quel microservizio. E adesso se vado a vedere il database vedo che è stato eseguito. Quindi questo dovrebbe dare il senso dell'immediatezza di cosa succede con l'ambiente serverless di Nuvalaris. Tra l'altro per dimostrarvi che dentro effettivamente c'è un container, perché tutta questa cosa di fatto è equivalente alla creazione di container che si fanno normalmente con Kubernetes, con la procedura di continuous integration di cui ho fatto vedere Daniele, possiamo vedere che è stato creato effettivamente un container per l'esecuzione di quel microservizio. Ok, adesso andiamo avanti e vi faccio vedere altri tre microservizi che implementeranno la select, la insert e la diritti nel database. Quindi adesso non mostro tutto il codice, mostro solo le parti diverse. Quindi una insert è questa. Quindi un prepare statement che prende dei valori, e li inserisce. E poi una diritti in cui prenderà l'id e rimuoverà. Un po' più complesso è select, ma complesso relativamente, in cui segue una query e poi deve sdrotolare l'array, scusate, sdrotolare il risultato della query e metterlo in una lista, in un oggetto JSON in modo tale da ottenere una lista. Quindi stiamo sempre parlando di codice elementare. Ora, il resto del codice è quello che ho fatto vedere prima, quindi avremo tre classi Java che hanno un main, prendono un input, prendono un JSON object e ritorno a un JSON object. Sono tre file e li posso deployare subito, immediatamente. In realtà è che non dovete sempre fare tutti questi comandi, poi c'è un modo per deployare n microservizi in una botta sola, adesso ve lo faccio vedere. Intanto il programmatore quando sviluppa, scrive i suoi microservizi, li manda immediatamente in esecuzione e li puoi eseguire. Quindi adesso li testiamo, adesso li testiamo. Quindi prima di tutto facciamo la insert, adesso proviamo a eseguire la select, vediamo che effettivamente mi viene ritornato un record. Adesso faccio un'altra insert, intanto vediamo meglio che è stato ritornato in JSON un record corrispondente a quella query. Adesso inserisco un altro record, lo faccio un'altra query, adesso vediamo che i record sono due. e adesso vediamo se funziona la delete. Adesso controlliamo che dovrebbe esserci solo un record. Ora, questa è una cosa che si fa, non è che si testa in produzione, però diciamo che si ha un ambiente di sviluppo che è generalmente identico a quello di produzione e permette di utilizzare per lo sviluppo praticamente lo stesso identico ambiente che poi verrà usato per la produzione. Allora, adesso andiamo avanti. Fin qua vi ho fatto vedere il processo di sviluppo del back-end. Quindi, come vedete, adesso vediamo un attimino il front-end. Quindi il front-end è questa... Scusate che sono andato troppo avanti. Il front-end, adesso sviluppiamo il front-end. Il front-end sarà una semplice pagina HTML che chiamerà quei microservizi che abbiamo sviluppato, select, insert, delete, e poi impacchetteremo il tutto in un microservizio anch'essa. Quindi prima lo testiamo in locale. Allora, il codice per utilizzare quei microservizi è molto semplice. Quindi io utilizzo in questo esempio un framework che si chiama Svelte, ma che è molto simile a React o Angular. Quindi non ci sono cose che dovrebbero sembrarvi strane. Quindi, come tutti i framework, c'è una parte in HTML. Quindi questo è l'HTML per realizzare la tabella, quindi la lista degli indirizzi. E poi c'è l'HTML per realizzare la form. Ci sono dei binding, dei collegamenti, che permettono di acchiappare il valore e metterlo in delle variabili. Quindi utilizzando questo è molto semplice fare la parte di front-end dei tre microservizi di cui parlavamo. Quindi queste sono delle variabili che sono collegate all'HTML. Adesso eseguo la funzione all che prenderà tutti i record, quindi farà una chiamata al servizio di back-end select e ritornerà a una lista di record. Poi c'è il metodo submit che invece eseguirà una post in cui scriverà un record, sempre pendendolo dalla form. E infine un metodo remove che invece eseguerà la rimozione invocando il metodo delete. Queste sono tre funzioni di front-end corrispondenti ai tre microservizi di back-end. Adesso lo metto in produzione, cioè li eseguo, semplicemente creo un template usando il framework svelte, copio il codice che è solo quello che ho fatto vedere, non c'è codice nascosto. Bisogna entrare nella cartella e installarlo e poi mandarlo in esecuzione. Adesso vedremo un test locale. Quindi adesso stiamo per provare, perché lo sviluppatore normalmente è la parte di front-end e la sviluppa in locale, almeno micro-front-end per micro-front-end. Stiamo per vedere come il... Adesso è già funzionante. Quindi abbiamo un'applicazione locale di front-end che sta chiamando i microservizi di back-end. Quindi vedete subito, vi è ritornato un record che era quello che c'era nel database. Adesso scrivo qualcosa, scrivo qualcosa, clicco col bottone add, lui invocherà il servizio di front-end di insert, scusate, di back-end di insert, dopodiché aggiungerà la tabella. Stesso discorso, se seleziono un record e lo rimuovo, invocherà il servizio di back-end della tabella. invocherà il servizio di back-end e rimuoverà il record. Va bene. Adesso faccio vedere come anche il front-end diventa un microservizio. Come faccio? Lo faccio impacchettandolo, facendo il bundling, creando un bundle. Quindi, sempre usando Nucularis, con il comando bundle. Vabbè, prima pulisco. Adesso vi faccio vedere come si crea un progetto completo, serverless, come vi avevo parlato. Quindi trasformiamo, adesso prima faccio pulizia. Quindi adesso non c'è più niente nell'ambiente serverless, siamo a zero. Adesso vi faccio vedere come si impacchetta e si deploya tutto come un'applicazione serverless, che produce in una botta sola i vari microservizi necessari. Quindi impacchettiamo il front-end col comando bundle e questo qua produrrà uno zip, questo bundle zip. Dopodiché c'è un file che qui non vi mostro, che è un file YAML, che elenga tutte le funzionalità, scusate, tutte le funzioni che io ho utilizzato e le deploya in una botta sola. Quindi adesso tutto il progetto è pronto ed è in produzione, ed è in produzione, io ne lo posso utilizzare. Quindi se io adesso prendo l'URL, lui adesso mi ritornà un URL di Amazon, perché era OpenShift installato su Amazon nel demo, ecco, vedete, questo è generato automaticamente come endpoint di Nuvolaris, e utilizzando questo URL, io semplicemente vado lì e mi viene, c'è il front-end e il back-end che chiama i microservizi che ho deployato. ecco, ecco come adesso un'applicazione a microservizi è scalabile con tutte le caratteristiche delle applicazioni che girano su Kubernetes, è pronta in esecuzione, è stata sviluppata in pochi minuti e immediatamente resta disponibile appunto in modalità serverless. E qui ho finito. Adesso sono a vostra disposizione per le domande. Grazie, grazie mille Michele. Penso che tutti quanti possano alzare la mano, fate una prova. Alessandro, fai un attimo una prova, vedi, se poi a cardo dico, se potete alzare la mano per eventualmente darvi la parola. Sì, perfetto, perfetto. Intanto ti faccio io la prima domanda che mi viene in mente. Tutti i meccanismi tipici che vengono impiegati nello sviluppo tradizionale come l'adozione di framework, scusa, magari è una domanda ti fa cadere le braccia ma è da commerciale, quindi sono scusato. Io utilizzo .NET Identity Framework e normalmente utilizzo Visual Studio. Nuvolare si integra in questo IDE oppure comunque necessità di scrivere degli script al di fuori di questo mio ambiente di lavoro? Dunque, se tu parli, se puoi utilizzare, andiamo per ordine, puoi sicuramente utilizzare .NET per sviluppare azioni perché è supportato. C'è un runtime con .NET. Puoi utilizzare sicuramente Visual Studio per scrivere il tuo codice. Le applicazioni serverless sono normalmente composte da tanti progetti indipendenti, quindi per esempio dipende un po' dall'ambiente che hai. Normalmente io uso per esempio VS Code e anche è un'applicazione per lui uguale, cioè non si rende conto perché non c'è neanche un main, quindi per lui sono semplicemente tutte funzioni che appartengono allo stesso progetto. però quando vengono deployate devi deployarle le parti che ti servono. Tra l'altro non c'è bisogno di compilare perché la combinazione avviene a Rundime. Quindi noi con il nostro tool forniamo delle automazioni che generalmente metti file in certe cartelle, lui automaticamente si rende conto che sono funzioni diverse in base al path e le deploy automaticamente. Inoltre se metti delle informazioni, puoi caricare delle librerie o cose di questo genere, te le assembla e te le manda lui. Quindi supportiamo il concetto. Al momento la cosa viene seguita con command line. Quindi normalmente tu puoi tranquillamente sviluppare sviluppare un'applicazione con qualunque idea normale e poi lo puoi deployare al momento come si fa con il Nuve. Ma è una cosa che faresti anche con Kubernetes. Forse Kubernetes, cioè tra l'altro è come concetto uguale perché con Kubernetes devi fare tanti progetti diversi perché ognuno corrisponde a un container. Qui ogni servizio corrisponde a una funzione e non hanno bisogno di creare tutto un Docker file, tutta una build, una cartella di continuous integration, quindi puoi tenere tutto in un'unica cartella e normalmente gli idea non fanno storie perché le vedono come un unico progetto, anche se in realtà sono di fatto tanti progetti diversi. Tanti progetti diversi, ecco. Quindi dal punto di vista pratico ci sono poche difficoltà, l'approccio è identico, se vogliamo, allo sviluppo microservizi con Kubernetes, ma è probabilmente più semplice perché hai bisogno di meno codice e procedure più flessibili. Quindi di solito hai un unico progetto dove c'è tutto e buonanotte, cioè non ti serve altro. Poi c'è un deployer, un file di configurazione, di solito tra l'altro aggiungo anche che i test vengono fatti come unit test, quindi è comodo avere tutto in un unico progetto per testarlo e poi viene spezzettato direttamente il deployer e viene da deployer di Nuvolaris. Chiaro. Tra l'altro volevo aggiungere a quello che dice Daniele anche che uno scenario tipico, prima abbiamo detto un cliente che vuole sviluppare un'applicazione sul cloud ed è lo scenario più tipico che capita, ma capita ancora tantissimo clienti che hanno il vincolo che non possono andare subito sul cloud. e una soluzione non è questa, ti consente comunque di realizzare un'applicazione che è cloud ready e poi nel caso poi decadono i vincoli o si sblocca un po' questa situazione, diciamo l'applicazione è già pronta per essere scalabile. In diversi contesti ci è capitato di proporla come opportunità. In realtà quasi la metà dei nostri clienti lavorano in cloud privati. Ed è proprio questo il vantaggio perché offriamo la punta di diamante del cloud pubblico e serverless in un ambito di cloud privato. E il fatto che abbatti in maniera significativa i costi di sviluppo e poi lavorare in modalità cloud ready se vogliamo in cloud private è un vantaggio se vogliamo forse il principale vantaggio al momento. Anche se poi oggi c'è chi ha fatto uscire la notizia che si sta ritornando ai monoliti. Faccio una battuta intanto per far arrivare qualche domanda. Non si sta ritornando ai monoliti perché qualcuno fa cavolate e crea applicazioni che non dovrebbe fare in maniera... Lasciamo bene. È che se in Amazon fanno la io sbagliato. Eh Alessandro? È che se in Amazon fanno la io sbagliato poi c'è qualcuno che è ottico al cambiamento che scrive articoli profondi in cui demonizza i microservizi. Ah sì. Ma in realtà non è così. Chi l'ha detto? Il disco come cash. Stanno tornando ai monoliti. Chi l'ha detto? No, no. Ma in realtà non l'ha detto nessuno. No, non l'ha detto nessuno. Qualcuno ha preso... Ha preso... Ha voluto scrivere un titolo per fare un po' di clickbait diciamo così. Ah, ok, ok. Credo che chi l'abbia scritto ci crede davvero però... Però... Allora... Luca vedo che ha fatto alzato la mano e pure Julian. Prima direi Luca. Ho visto i runtime che avete a disposizione. Mettiamo che io mi ritrovo tipo nel runtime Python però ho necessità magari di farmi la build in una libreria particolare o magari di supportare... Devo magari costruirmi un driver per una connessione particolare. Posso quindi farmi un mio container una mia immagine docker e poi deployare quell'immagine docker su cui fai gerare le funzioni? Allora... Andiamo con ordine. Andiamo con ordine. Primo, Nuvolaris gira su Kubernetes quindi ed è di fatto un'applicazione di Kubernetes come le altre. Quindi niente impedisce a un'applicazione Nuvolaris a una funzione di parlare con un container docker. Quindi tu puoi avere un'applicazione mista in cui alcune parti sono ancora docker container e nelle altre sono functions perché le functions sono container quindi è solo un modo diverso di costruirle più semplice. Quindi è perfettamente possibile avere entrambe le cose cioè avere un'applicazione che ha sia container docker che funzioni che sono pure container docker generate da Nuvolaris perché poi hanno la loro architettura eccetera. Poi c'è da dire un'altra cosa che i runtime che sono container specializzati per l'esecuzione di funzioni sono sviluppati possono essere personalizzati esiste un SDK un software che by the way è la contribuzione che ho dato io al progetto OpenWhisk l'ho sviluppato io questo SDK che permette di creare in meno di un'ora un nuovo runtime per un linguaggio e ci vogliono pochi minuti a personalizzare un runtime esistente per aggiungersi per esempio di librerie o di driver che non hai infatti per esempio nell'esempio che ho fatto nel runtime standard di Java il driver per Postgres non c'è ho fatto un driver apposito per metterglielo ho fatto un runtime apposito per metterglielo quindi puoi anche avere dei runtime customizzati per l'uso specifico anche se ovviamente diciamo questo lo facciamo fare all'esperto e agli sviluppatori gli complichiamo la vita gli diamo le funzioni almeno questo è l'idea quindi sono possibili tutte e tre tutte le soluzioni sia mischiare container con con funzioni sia personalizzare il runtime per raggiungere nuovi driver agli esecutori di funzioni e molto di più in realtà posso fare parecchie parecchie perché essendo open source uno dei grandi vantaggi è che siamo in grado di fare un fine tuning del motore serverless che non si può fare con Lambda per esempio quella di Amazon per esempio un nostro cliente negli Stati Uniti aveva bisogno di eseguire delle funzioni di machine learning e siccome ci mettevano molto a partire ha voluto fare un pre-warm di 50 container cosa che noi abbiamo potuto fare ma in Lambda non puoi fare e quindi devi beccare il problema del cold start cioè che quando la cosa scala ci mette un certo tempo per attivare che noi invece possiamo alleviare con il pre-warm configurando l'ambiente quindi questo è uno dei vantaggi di avere il tuo serverless perché ci fai quello che vuoi insomma senza essere vingolato ai constraint del cloud provider grazie grazie Michele questo è interessante vedo Julian vedo ciao a prossimo allora guarda in realtà avevo due domande ma una mi hai parzialmente risposto perché una delle due domande riguardava proprio le performance in fase di avvio perché normalmente le Lambda diciamo se vengono scritte funzioni semplici funzioni elementari il tempo di avvio è minimo però se vengono utilizzate librerie molto complesse immagino per esempio se devi fare analisi geografica su una funzione che ti devi tirare su GDAL se questo causava problemi di performance oppure oppure no abbiamo avuto questa situazione in cui doveva partire un un modello di macelleni piuttosto pesante e non c'era adesso di farlo in meno di qualche secondo ci vorremmo circa 10 secondi e allora per poter fare il learning però poi rimaneva in esecuzione quindi per poter fare il learning velocemente hanno fatto un pre-warm che c'è un parametro e hanno detto ok quando parti fai 50 si chiamano stem cell che sono praticamente dei contenuti già pronti all'uso già inizializzati che devono solo ricevere il codice però la parte di inizializzazione l'ha già stata eseguita quindi quindi appunto avendo tu il controllo dell'ambiente puoi fare anche queste cose ma già con la l'ambiente lo scordi perché dovrebbero farlo per tutti vale lo stesso discorso per tra virgolette la morte del container nel caso in cui io eseguo una funzione dopo quanto tempo la funzione non è più online dunque allora quando il container non è più utilizzato mi pare mi pare per alcuni minuti viene eliminato viene eliminato però quando elimini un container siccome c'è sempre un numero di container pronti all'uso deve essere pari al numero di stem cell un nuovo container viene fatto partire quindi funziona così quindi la funzione comunque resta sempre in ascolto non è non è una funzione diciamo silente occupa comunque risorse nel momento in cui stai in ascolto allora già così quando allora innanzitutto il sistema scala al secondo numero di richieste quindi quindi la prima volta che tu hai una richiesta eh sì aspetta dobbiamo separare eh le stem cell dalla funzione specifica le stem cell sono generiche cioè sono container eh di un certo tipo eh che però devono essere devono essere ancora inizializzati quindi sono pronte all'uso e quindi possono utilizzare eventuali librerie che hanno dentro ma devono ancora ricevere il codice poter utilizzare quindi possono essere utilizzate per qualunque funzione dopo che quando poi il sistema fa una richiesta ha bisogno di di eseguire una funzione eh e se non trova esecutori liberi né crea uno nuovo inizializzando un nuovo esecutore una volta che una volta che però eh degli esecutori rimangono inattivi per un certo tempo vengono eliminati però esecutori generalizzati e vengono inizializzati non esecutori generici che sono pronti per essere inizializzati per delle funzioni diverse ok perfetto è più o meno come funziona la la seconda parte della domanda eh riguardano un po' i servizi eh disponibili per esempio uno dei grandi vantaggi che solidamente si ha quando si usa indifferentemente ora Azure o AWS è la parte per esempio di autenticazione eh utilizzare l'autenticazione integrata che chiaramente poi eh può essere configurato su tutti i microservizi in praticamente qualsiasi modo eh l'ado Nuvolaris eh ci sono dei servizi di autenticazione di verifica di controllo autorizzazione per l'accesso al microservizio stesso o ai dati allora eh ogni 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 funzione è comunque protetta dal sistema quindi non puoi utilizzarla cioè devi passare la sua out key e ci sono tante out key quando sono i vari namespace eh quindi esiste esiste sì un'autenticazione legata al sistema Nuvolaris ma se vuoi utilizzare un sistema tipo Kclock per dire noi eh generalmente ci appoggiamo a servizi interni quindi no non c'è abbiamo parlato varie volte di integrare un sistema di un sistema SaaS però ancora non abbiamo deciso quindi al momento non c'è un sistema SaaS integrato quindi però puoi utilizzare per esempio con la società precedente con cui lavoravo utilizzavano un sistema out che si chiama out zero che forniva eh questo servizio e allo stato delle cose io consiglio utilizzare un sistema esterno se uno vuole fare single sign on è possibile anzi quasi banale deployare anche Kclock o qualcosa di simile in in un ambiente Kubernetes quindi si può utilizzare però al momento non è integrato può darsi che lo faremo però è un argomento spinoso perché non si sa quale cioè non ce n'è uno veramente standard per tutti quindi ok chiarissimo abbiamo pensato di usare il CAS abbiamo pensato di usare Kclock abbiamo pensato di usare vari ma diciamo che al momento lo lasciamo fuori questo abbiamo integrato una serie di altri servizi quali database Redis e lo storage con l'object storage questo sì probabilmente integriremo anche questo in futuro quando però insomma ancora ci siamo arrivati c'è stato richiesto ma di fatto ancora non c'è mai capitato un caso reale in cui fosse veramente richiesto ok chiarissimo grazie grazie Alessandro eccomi allora un paio di domande la prima domanda che ho è se sai dirmi qual è il footprint di risorse di nuovo Laris e qual è l'overhead rispetto a non averlo intorno a frappare tutto insomma allora footprint il footprint è che c'è un controller che è un'applicazione scala che occupa circa circa un giga di memoria e in mezzo c'è Kafka può essere non deployato cioè modalità lean in cui quindi nella modalità lean semplicemente le richieste vanno al controller il controller le manda agli esecutori e via quindi diciamo che noi diciamo ci vuole almeno un server con almeno tre server da 8 giga ecco questo è il footprint cioè secondo me il minimo ragionevole per utilizzare un corale è un classe Kubernetes con tre server da 8 giga e lì puoi fare delle applicazioni abbastanza complesse e dici non averlo tra i piedi se non tra i piedi non hai benefici quindi no 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 è l'overhead di di averlo cioè nel senso il il tempo di esecuzione in più rispetto a non avere un front controller e Kafka che fanno sostanzialmente l'orchestrazione delle chiamate il punto il punto il vero punto di discussione non è il tempo il tempo di latenza che è ovviamente maggiore ma la latenza complessiva cioè vi spiego ovviamente quando tu fai una richiesta la richiesta va a nuvolare al controller il controller lo inoltra lo inoltra al back end all'executor in realtà se ci metti anche Kafka è ancora più complicato quindi prendi il controller e lo metti in Kafka poi c'è un invoico che lo scoda e lo manda tutto questo era i termini pratici sotto il decimo di secondo sotto il decimo di secondo l'abbiamo visto molte volte tanto è vero che era possibile fare pure un gioco online di robot che combattevano e era pure performante quindi riusciva a fare anche 10 richieste al secondo però il punto è che siccome il sistema scala tu puoi avere in parallelo tantissime richieste quindi anche se da un lato hai un tempo per l'esecuzione di una singola richiesta più lungo rispetto a non averlo il fatto riesce a parallelizzarne tante riesce a parallelizzarne tante con un sistema quindi è un sistema che ha tantissimi utenti performa meglio anche se ogni richiesta ci mette sempre un certo tempo rispetto a un sistema che non scala e però è più veloce a servire le riposte quindi un sistema non scala magari riesce a servire una richiesta in un centesimo di secondo però è limitato dal numero di richieste che riesce a servire mentre invece un sistema scalabile ci mette sempre più tempo a eseguire la singola richiesta ma ne aggiunge di nuove e soprattutto ha in mezzo quella che si chiama la gestione della backpressure cioè ha l'appoggio memorizza la richiesta e la distribuisce quando è pronta quindi è un sistema più resiliente e più scalabile ovviamente ha un costo questa cosa certo ok però aumenta il throughput che ovviamente è la base dei sistemi distribuiti quindi è una cosa ti permette di mettere migliaia di server però ogni singola richiesta è più lenta rispetto a un unico serverone che risponde a tutte le richieste più veloce che può ok ok grazie grazie alessandro simone benvenuto ciao a tutti mi sentite? forte e chiaro bene dunque per coloro che hanno ancora diciamo un approccio non ancora a microservizi ma un grosso monolita scritto coi piedi brutto con classici plus plus da qualche migliaia di codice l'una l'approccio che se avete avuto esperienza con diciamo simili aziende o comunque simili sistemi qual è l'approccio che avete usato per spezzettare la diciamo la business logic di questi sistemi in microservizi perché la cosa che poi ci fa un po' pensare prima di poter passare a un sistema diciamo appunto a un monolita a un sistema microservizi è la logica che è quella che poi fa del sistema il sistema diciamo è vecchia la conoscono in pochi nessuno hanno tutti paura a toccare queste il codice qual è il vostro approccio quello di stare sul fiume e aspettare i cadici che passa il cadavere del nemico allora scherzo allora aspetta aspetta il punto è questo e questo problema ogni volta che si pone significa solo una cosa che l'azienda non è prontata in cloud non ha esigenze di cloud non c'è arrivata faccio un esempio molto semplice molto semplice quando sono usciti gli iphone tutti non c'erano siti web adatti agli iphone agli iphone per un paio d'anni sono tutti fregati e al massimo che hanno fatto hanno cercato di ritoccare il sito perché si vedesse meglio per i primi anni quanti siti erano impossibili da leggere da vedere con l'iphone poi quando tutti quanti hanno la maggior parte dei web si è spostato sui cellulari tutti quanti che hanno fatto hanno capito che non potevano più stare con lo vecchio sito che hanno resistito tantissimo per cambiarlo e se lo sono rifatti rifare molti addirittura facendosi fare l'app ecco sul mondo del cloud è la stessa cosa se c'hai il monolitone rimani con il monolitone perché ti va bene se però hai bisogno di qualcosa in cui un monolitone che non ti va più bene non riuscirai mai a convincere un cliente a riscrivere tutto finché il cliente non è disperato in un'altra scelta che riscrivere tutto e questa cosa ci arriverà immediatamente non appena dovrà sviluppare delle applicazioni che si possono fare solo in cloud per esempio quelle di intelligenza artificiale che ci stanno che stanno spiazzando tutti a quel punto o lo riscrivi o lo riscrivi e quando lo devi riscrivere allora la nuova Laris appunto sta sulla riva del fiume e aspetta ma nel senso riscriverlo sì io neanche ci provo a discutere il nuova Laris è un tool per riscrivere le applicazioni punto non lo vuoi riscrivere va bene tienitelo però io sono lì ad aspettare che tu abbia l'esigenza di riscriverlo e anche se più o meno si capisce che è il momento di riscriverlo che dovremmo va si tentene ovviamente perché ci sono investimenti di miliardi di anni che uno non vuole rifare quindi io aspetto che non si abbia altra scelta che riscriverlo quando si dovrà riscrivere mi presento col fatto di una cosa che ti faccio risparmiare un sacco di tempo rispetto a farlo con Kubernetes puro però non cerco di convincere il cliente a spostarsi a buttare via il monolita se non esente dell'esigenza non è un tool per modificare cosa esigente io ho detto un milione di volte noi non siamo lì per modificare applicazioni esistenti a rendere serverless perché molti usano Kubernetes proprio per questo pigliano loro lo monitorano e lo spingono su Kubernetes con replica 1 che non hanno fatto niente lo hanno solo spostato noi siamo lì per riscrivere le applicazioni in maniera cloud native e sappiamo che sarà inevitabile se il cliente non è ancora arrivato ad avere quell'esigenza ci arriverà ci arriverà ma non deve per forza usare Nubolares ora lo userà quando avrà quell'esigenza comunque un vantaggio che possiamo fare è quello che abbiamo messo un proxy davanti e uno tiene il monolita lì e via via estrae i pezzi di business logic e quello comincia a riscrivere un po' alla volta questo è un modo ma non posso convincere qualcuno a fare una cosa che non vuole fare è un problema che abbiamo affrontato tantissime volte ho capito ok però questo è già una best practice che si può usare diciamo questa di fare in modo che si faccia spostare a pezzi piano piano gradualmente abbiamo messo un proxy davanti addirittura era un tool che lo faceva in automatico per cui c'era un proxy furbo che se c'era la funzione il microservizio lo switchava al microservizio altrimenti chiamava la funzione classica spring boot eccetera quindi usando traffic questa cosa lo facevamo dinamicamente quindi uno può prendere però prima deve essere convinto che deve riscrivere l'applicazione e deve averne un'esigenza forte non basta dire andiamo al microservizi per farlo ci vuole di più ci vuole qualcosa che proprio non si può fare con monolita e ci sono tante cose che già non si possono fare con monolita intelligenza artificiale dicevi prima Michele anche voglia su tutte le applicazioni se tu provi a pensare un attimino come sono le applicazioni di intelligenza artificiale prova a usare già tgpt ti accorgi subito come funziona fai una richiesta la mandi a quell'altra la prendi il dato di qui lo riprocessi ricevi il risultato lo rimetti di là prendi un altro servizio queste robe le puoi fare solo in cloud secondo me ancora di più quando ti trovi a spostare grosse quantità di dati ad esempio se devi lavorare su sistemi big data e intelligenza artificiale combinati dove ogni volta devi spostare proprio dati oppure media peggio ancora diventano impossibili esatto e lì quando ti trovi a dover fare i microservizi e devi fare tanti e devi costruire il condeno ogni volta lo devi deployare devi configurare su kubernetes eccetera allora lì capisci il vantaggio di avere un sistema che ti offre pronto all'uso tutto quello che al cimento ti dovresti costruire e ci metti in media un anno questo è il vantaggio di Nuclaris verissimo io vedo che non ci sono altre domande sembrerebbe di no Michele io penso che è stato veramente interessante ti ringrazio Daniele grazie anche a te grazie a voi per lo spazio se volete insomma ci condividiamo le slide anche se insomma già abbiamo iniziato a vedere qualcosa insieme se non ci sono altre domande da parte di nessuno direi che ci possiamo salutare ci vediamo tra un mesetto organizzeremo il prossimo manderemo il reminder a tutti quanti i colleghi anche diciamo a chi ci segue da fuori grazie ancora va bene grazie a tutti grazie a voi buona giornata ciao ragazzi grazie grazie a tutti